Push up con una mano in appoggio sulla kettlebell, quindi rovesciamo la kettlebell, mettiamo una mano sulla palla, l'altra mano in linea ovviamente con l'altra, ci posizioniamo per fare il nostro push up, gomiti stretti che vanno bene verso dietro, addome attivo, retroversione del bacino, spalle che spingono verso l'alto, scendo fino a toccare il pavimento, spingo forte tenendo bene l'addome e salgo e mi rimetto in posizione, spalle che spingono verso l'alto, addome attivo, retroversione del bacino e vado, gomiti strettissimi e su.